Il ricordo è tutto. Senza siamo ciechi. La nostra guerra comincia! Oggi! Se vogliamo sconfiggerlo, dovrai fidarti di me. I suoi segreti... Non puoi fare niente per fermarmi. ...possono salvare il mondo. Le cose non sempre sono come sembrano. Animali fantastici. I segreti di Silente. Posso tenerla? Dal 13 aprile al cinema. Alla prossima.